Per il resto, in questa partecipazione italiana al vertice dei socialisti europei, nell'incontro bilaterale che avrò con il Presidente della Commissione Juncker e nella riunione del Consiglio europeo, noi ci presentiamo con tre o quattro obiettivi principali. Il primo è lavorare a un'agenda europea, visto che è una fase fondativa di una nuova agenda europea, che sia il più possibile un'agenda che promuove la crescita, il lavoro e gli investimenti. In questo quadro discuteremo anche con il Presidente Juncker, sostenendo le sue proposte e insistendo sulla necessità che l'unione bancaria, per la quale si lavora, sia uno strumento per migliorare la capacità delle banche di offrire credito alle imprese, di sostenere la ripresa e che non ci siano misure inappropriate o intempestive che rischiano di invece produrre difficoltà nei meccanismi del credito e nella tutela del risparmio.